Alessandro Manzoni Nipote di Cesare Beccaria, uno dei protagonisti dell'illuminismo italiano, Alessandro Manzoni nasce a Milano nel 1785. Insofferente alla rigida educazione religiosa ricevuta in collegio, si entusiasma per le posizioni anticlericali in politica e neoclassiche in letteratura. Prima di raggiungere la madre a Parigi, dove entra in contatto con lo spirito del romanticismo, attraverso l'amicizia con Claude Foriel. Nel 1810 sposa Enrichetta Blondel, una giovane calvinista insieme alla quale si riavvicina alla fede cattolica. Gli anni successivi, vissuti a Milano con qualche intervallo parigino, sono contraddistinti da un'intensa e appartata attività letteraria, pur nell'interesse per gli avvicendamenti storici in corso. Al progetto degli inni sacri seguono infatti le odi marzo 1821 e il 5 maggio, in cui interpreta l'episodio napoleonico anche alla luce della volontà divina, quindi una dichiarazione di adesione al romanticismo, e le tragedie il conte di Carmagnola e Adelchi, entrambe accompagnate da accurati approfondimenti storici. Negli stessi anni di composizione della Adelchi, lavora un romanzo storico, intitolato per il momento Fermo e Lucia, che costituisce una prima versione dei promessi sposi. Un viaggio a Firenze nel 1827 gli permette poi di trovare nel parlato dei fiorentini colti quella lingua faticosamente cercata in quanto modello ideale, dando alle stampe l'edizione cosiddetta ventisettana. Il suo successo immediato dimostra l'attualità di una rappresentazione realistica degli umili e di una riflessione morale sul senso della storia. Un nuovo matrimonio e l'amicizia con Antonio Rosmini inaugurano una nuova fase della vita di Manzoni, ormai molto ammirato dalla borghesia milanese. Dopo aver seguito i moti del 1848, anche se senza parteciparvi direttamente, con la nascita del Regno d'Italia è nominato senatore. L'interesse per l'unificazione non solo della nazione, ma anche della lingua italiana, lo accompagna fino agli ultimi anni, durante i quali si dedica a studi di tipo linguistico. Per il suo impegno letterario e per il suo coinvolgimento negli ideali del Risorgimento, alla sua morte nel 1873, Giuseppe Verdi compone una solenne messa da Requiem. Grazie a tutti.